Buongiorno, ringrazio Oreste per l'invito a questo interessante convegno. Il tema che mi è stato affidato è la coccigodinia e ringrazio anche la dottoressa Giraudo per il contributo fondamentale a questa presentazione. In questa presentazione introdurremmo alcuni argomenti relativi alla coccigodinia, quali il concetto di dolore cronico neuropatico pelviperineale e quindi concetti di sensibilizzazione centrale e periferica, il dolore viscerale, la sensibilizzazione viscero-viscerale e viscero-somatica e poi entreremo un pochino più nello specifico dell'argomento della coccigodinia con la sua valutazione e il trattamento strumentale e manuale. La task force della International Association for the Study of Pain definisce il dolore come una sgradevole esperienza sensoriale ed emozionale associata ad un danno tessutale presente o potenziale o descritto in questi termini. Da sottolineare i concetti di esperienza sensoriale, emozionale e la concomitante presenza del danno tessutale presente o potenziale in questa definizione. Quindi abbiamo in sequenza in queste immagini l'insorgenza di un dolore da primo a nocicettivo legato ad un danno specifico, secondariamente al quale si verifica la stimolazione delle fibre nervose afferenti con l'arrivo del messaggio nocicettivo alle corna posteriori del midollo per poi ovviamente avere l'attivazione delle vie ascendenti verso il cervello ma abbiamo anche l'attivazione di alcune vie retrograde che attivano in periferia dei meccanismi di potenziamento dello stimolo doloroso attraverso la produzione di diversi neurotrasmettitori tra cui la sostanza P e attraverso la mediazione delle mast cell ad esempio di stamina. Quindi si può verificare in questo modo grazie al rilascio di questi neuropeptidi tra cui è presente anche il nerve growth factor un'amplificazione di uno stimolo originariamente innocuo non doloroso per cui dalla periferia ad un certo punto vengono attivate delle fibre anche in assenza senza un'apparente causa di dolore che ovviamente portano lo stimolo doloroso alle corna posteriori del midollo. La sensibilizzazione periferica è un fenomeno locale esiste anche una sensibilizzazione centrale che è un processo invece del sistema nervoso centrale caratterizzato dalla amplificata capacità di rispondere da parte di alcuni neuroni del sistema nervoso centrale ad input provenienti da recettori uni o multimodali. Questo processo spiega la presenza di un dolore cronico e di un dolore pelvico cronico spesso in assenza di patologia periferica e questa sorta di asimmetria fra il danno tessutale assente o minimo e l'impatto della disabilità che spesso viene vissuta come estremamente significativa dalle persone affette. In realtà la sensibilizzazione centrale comprende nel suo interno diversi fenomeni prima di tutto l'alterazione della processazione delle afferenze sensoriali nel cervello dimostrata da diversi lavori come vengono descritte in queste immagini le aree che all'interno del cervello possono essere attivate e amplificate in presenza di un dolore cronico ma anche la sensibilizzazione centrale è caratterizzata dalle disfunzioni nel controllo di alcuni meccanismi inibitori discendenti che hanno origine a livello cerebrale quindi l'alterazione di queste vie discendenti e dei meccanismi che vengono normalmente assicurati inibitori da queste vie discendenti può determinare una vera e propria risposta esagerata al dolore stesso. E ancora ci possono essere degli incrementi delle attività delle vie nocicettive centrali attraverso i fenomeni di sommazione temporale o il più noto meccanismo del wind up dove ad esempio vedete in questa immagine la stimolazione ripetitiva delle fibre C che normalmente portano il dolore determina una progressiva attivazione dei neuroni delle corna dorsali del midollo spinale questo è un meccanismo normale la ripetitività delle stimolazioni può indurre alla fine una sorta di attivazione spontanea delle fibre che si attivano anche senza stimoli provenienti dalla periferia e in più possono essere questi stimoli veicolati anche da fibre che normalmente non portano meccanismi sensazioni dolorose sono come in questo caso le fibre a beta che veicolano stimoli di tipo meccanico possono diventare veicoli per stimoli dolorosi normalmente la sensibilizzazione periferica e centrale sono due meccanismi che sono comunque secondari per definizione alla ad un'alterazione ad una lesione nervosa che può indurre anche la trasformazione di uno stimolo innocuo in uno stimolo doloroso e in questo caso ovviamente parleremo di dolore di tipo neuropatico esistono poi anche altri meccanismi come ad esempio la long term potentiation che è possibile verificare nella corteccia cingolata anteriore come ben descritto in questo lavoro del 2014 e come viene confermato anche da altri lavori come questo sempre dello stesso anno del 2014 per cui afferenze nocicettive continue da dolore pelvico modificano aree corticali deputate alla percezione del dolore ma questa è una cosa particolarmente interessante c'è anche è stato anche dimostrato il coinvolgimento di alcune aree che hanno una componente neuromotoria come ad esempio l'asma 6 l'area supplementare motoria esiste anche una sensibilità di tipo viscerale ovviamente l'innervazione viscerale ovviamente l'innervazione viscerale l'innervazione dei visceri e sia del sistema simpatico sia del sistema parasimpatico questi due sistemi che possono avere una componente motoria hanno anche delle afferenze viscerali anzi il termine corretto è proprio quello della sensibilità o delle afferenze viscerali che possono essere veicolatrici di informazioni che possiamo coscientizzare ma anche no ad esempio il tratto intestinale normalmente non è percepito se non in determinate situazioni in particolare quelle patologiche queste vie afferenti informano il sistema nervoso centrale di eventi chimici o meccanici che si verificano nei visceri e che quindi possono determinare ovviamente anche delle informazioni di tipo nocicettivo alcune afferenze quindi possono non essere coscientizzate e quindi normalmente avrò dei recettori che in realtà sono funzionanti ma avrò anche una serie di recettori che possono essere considerati silenti in questa immagine vi è la spiegazione del fatto che da molti organi miscenari noi non abbiamo informazioni ad esempio il cuore noi non lo sentiamo sostanzialmente ma se si verifica un fenomeno patologico sappiamo tutti che il dolore miocardico può dare in qualche modo un segnale di dolore all'arto superiore ora il cuore non è rappresentato a livello corticale ma è rappresentato dagli stessi dermatomeri che sono comuni a livello delle corna posteriori del midollo ad esempio con l'arto superiore quindi ogni organo viscerale ha un dermatomano di riferimento in questo caso si parlerà di dolore viscerale riferito per quello che riguarda le afferenze viscerali è importante poi ricordare come sono normalmente veicolate da una piccola area delle colonne posteriori che normalmente sono veicolatrici di stimoli innocue con fibre di grande diametro laddove invece le vie lunghe della nocicezione sono anteriori o anterolaterali a livello corticale la zona più importante per il dolore viscerale è il lobo dell'insula responsabile della coscientizzazione della interocezione esistono poi i fenomeni di cross sensibilizzazione tra diversi organi pelvici che possono contribuire all'insorgenza di dolore pelvico cronico di difficile interpretazione dal momento che spesso sembrano essere coinvolte due o più strutture diverse esiste quindi una sorta di sensibilizzazione viscero viscerale anche questo è un concetto che è importante poi nella interpretazione unitaria e globale del trattamento riabilitativo il concetto di convergenza viscero viscerale è determinata dal fatto come si vede in questa immagine che sui gangli delle radici dorsali possono in qualche modo insistere afferenze provenienti da due organi diversi in questo caso è rappresentata la vescica e l'intestino e un ipotetico meccanismo di azione della sensibilizzazione della cross sensibilizzazione viscerale illustra il fatto che una lesione del colon potrebbe determinare sostanzialmente un incremento dell'eccitabilità del secondo neurone spinale così che quest'ultimo amplifica anche un'afferenza normale ad esempio di origine dalla vescica e quindi in sostanza la percezione può riguardare entrambi gli organi anche se nella realtà clinica la patologia è presente in uno solo dei due un altro meccanismo che da conoscere in questo caso nel dolore neuropatico è l'allodinia e l'iperalgesia anche di origine viscerale presente quindi nel dolore neuropatico di origine viscerale e anche un altro meccanismo particolarmente importante che è stato descritto anche da qualche anno dai neurofisiologi russi in particolare che è quella della sensibilizzazione viscerosomatica inizialmente di cui abbiamo tra l'altro anche un contributo importante nel nostro paese grazie alla professoressa Gian Berardino e che attraverso questa complessa diapositiva può anche spiegare il fatto come esista una sorta di iperattivazione attraverso degli interneuroni delle efferenze motorie ovviamente allo stesso livello delle afferenze nocicettive dal pavimento pelvico quindi con un incremento della buffet di stimolazione sui muscoli innervati dai quei livelli fondamentalmente gli elevatori dell'ano e la muscolatura del piano più superficiale a livello pelviperineale con la comparsa e la spiegazione di quel fenomeno clinico che viene definito non relaxing pelvic floor quindi di un pavimento pelvico che in realtà non è in grado di rilassarsi frequentemente associato e caratteristico del dolore pelvico cronico anche attraverso la presenza di trigger point mucosi o muscolari passiamo alla situazione più specifica di coccigodinia che comunque rientra e può in qualche modo essere interpretata anche alla luce di tutte le situazioni che abbiamo descritto prima innanzitutto il coccige che è composto da una serie numero variabile di vertebre coccigee da 3 a 5 il coccige è normalmente posizionato sulla linea mediana al di sotto del sacro e in posizione supero posteriore oltre ad esserci una variabilità nel numero delle vertebre coccigee esiste anche una grande variabilità sulla possibilità che queste diverse vertebre siano o no fuse insieme da un punto di vista morfologico relativamente alla prima vertebra troviamo descritti i due processi trasversi a carico esclusivamente di C1 abbiamo due processi articolari superiori sempre a carico soltanto di C1 che vengono anche in alcuni casi chiamati le corna coccigee il coccigee non possiede un canale vertebrale quindi non è possibile in alcun modo rilevare a questo livello del liquido cerebrospinale non esistono a livello coccigee o forami di coniugazione non si rilevano se si esclude C1 processi articolari né superiori né inferiori e come caratteristica in senso craniocaudale ogni vertebra coccigee è più piccola della soprastante esiste anche un'ampia variabilità morfologica e strutturale del coccigee come si può anche vedere bene in quest'articolo del 2013 che descrive in pazienti asintomatici grazie all'attac diversi angoli tra le vertebre coccigee quindi in soggetti che non hanno situazioni di dolore particolare e esiste anche una consolidata conoscenza del fatto che attraverso minimi movimenti dell'articolazione sacro coccigea il coccige modifichi la sua posizione a seconda della posizione del paziente quindi se in piedi o se seduto in questo caso con la linea tratteggiata abbiamo diciamo una situazione del coccige da seduto mentre la linea continua è B e caratterizza la posizione durante la postura eretta dal punto di vista dei legamenti abbiamo diverse strutture legamentose piuttosto importanti quindi due legamenti sacro coccigei uno anteriore ed uno posteriore che a sua volta ancora può essere distinto in una porzione più profonda in una porzione superficiale due legamenti uno a destra e una a sinistra sacro coccigei laterali e dei legamenti interarticolari di minore importanza l'innervazione è garantita dal plesso coccigeo quindi dalle radici direi prevalentemente S5 e C1 con una componente di S4 con rami terminali cutanei e il ramo motorio per l'ischio coccigeo componente secondo alcuni autori degli elevatori dell'ano e è ovviamente importante conoscere l'anatomia di quest'area per poter dare una direi accurate interpretazione alla sintomatologia dolorosa riferita a quest'area come ben descritto in questo articolo recente del 2017 che ha come fra gli autori anche Jean-Jacques Windel ed in particolare se ritorniamo all'innervazione vediamo come la zona di pertinenza diciamo sacro coccigea è in realtà da riferirsi a tronchi e radici diverse vedete la zona più mediale che è quella di pertinenza del plesso coccigeo che abbiamo già descritto S5 e C1 mentre appena più lateralmente abbiamo le zone di pertinenza del nervi cluneale medio ed inferiore rispettivamente di origine S1, S2, S3 e ancora più lateralmente del nervo cluneale superiore che origina da S1, S2 ed S3 quindi anche in questo caso è importante la conoscenza proprio per poter dare un'interpretazione rispetto alla sintomatologia riferita stessa identica immagine viene confermata in quest'altro disegno ugualmente importante la conoscenza di anatomia soprattutto quando si parla dei rapporti che in qualche modo possono condizionare in particolare come vedete i rapporti fra il muscolo piriforme e il muscolo otturatore il legamento sacrospinoso il sacro tuberoso con il nervo pudendo e ovviamente come abbiamo descritto anche il nervo gluteo inferiore che è il nervo cluneale secondo gli autori francesi quindi tutta quest'area può in qualche modo condizionare la presenza di un'eventuale sindrome canalicolare che ha come riferimento il territorio ovviamente che può anche essere apparentemente di competenza del plesso coccigeo e specularmente sappiamo che il coccige ha rapporti poi con strutture nervose importanti vedete in questa immagine è descritto in verde lateralmente appena lateralmente al pallino verde il ganglio impari importante poi per il trattamento e ovviamente come abbiamo già detto i rami terminali del pudendo in particolare le radici dei i tronchi dei nervi rettali inferiori dei nervi perineali che sono due delle tre dei tre rami terminali del pudendo stesso ancora in questa immagine si descrive bene il rapporto con i muscoli rispetto al coccige vedete in diretta direi continuità con la parte laterale del coccige i rami del muscolo ischio coccigeo mentre appena più avanti vediamo i rami dell'ilio coccigeo e dell'altra componente del del piano degli elevatori dell'ano in particolar modo da un punto di vista anatomico vediamo come sulla faccia anteriore del coccige ci sia una area di inserzione del muscolo ischio coccigeo nell'ambito dell'elevatore dell'ano e se poi andiamo invece a guardare la faccia posteriore del coccige stesso vediamo come esso si serva da area inserzionare per il muscolo grande gluteo e sull'ultima vertebra coccigea possa avere un rapporto anatomico stretto con lo sfintere anale esterno confermato da questa immagine un pochino più grande per quello che riguarda il grande gluteo in particolar modo vedete la sua ampia zona di inserzione nello specifico il grande gluteo inserisce una piccola porzione delle sue fibre sul coccige tende a spostarlo in avanti ma tende anche a stabilizzarlo lateralmente quindi in pratica insieme ad un'azione direi apparentemente contraria della componente ileo coccigeo queste due componenti muscolari servono in qualche modo a stabilizzare la posizione e il movimento seppur minimo del coccige stesso elemento di particolare importanza vedete ancora in questa immagine il grande gluteo con la sua inserzione anche minima sul coccige e vediamo come in questo testo ad esempio ci siano assolutamente descritte in maniera abbastanza precisa le possibilità che la debolezza l'indebolimento delle fibre coccige del grande gluteo possa determinare una prevalenza nel movimento anteriore del coccige oppure ovviamente rispetto ad un indebolimento unilaterale ci possa essere una deviazione verso il lato opposto ovviamente quindi è estremamente importante specialmente nel caso di un non relaxing pelvic floor dove spesso compaiono questi coccigi anteriorizzati che vengono costantemente riferite a presunte fratture anamnestiche che poi in realtà non ci sono individuare e conoscere quelle che possono essere le disarmonie legate a situazioni muscolari di ipotono di alterazione dell'equilibrio dei diversi muscoli quindi abbiamo anche già visto che il grande gluteo tende a tenere in posizione il coccige è importante la sua azione che è opposta quindi a quella dell'ischio coccigeo e a quella dell'ileo coccigeo ed è importante anche in funzione ad esempio di alcuni movimenti direi normali pensate ad esempio all'azione di destabilizzazione che può esserci sul coccige durante la fase di monopedestazione se non esiste un equilibrio fra questi gruppi muscolari questo è invece il muscolo coccigeo vedete come è importante soprattutto nella stabilizzazione nell'equilibrio laterolaterale della posizione del coccige e qui abbiamo il piano pelvico nel suo insieme soprattutto rispetto alle componenti degli elevatori dell'ano un'ultima osservazione che è particolarmente importante che è quella del rapporto fra l'ultima vertebra coccigea e una delle componenti in particolar modo quella cosiddetta superficiale dello sfintere anale esterno anche in questo caso questo tipo di rapporto anatomico può essere considerata di fondamentale importanza da una parte per l'azione che ovviamente lo sfintere esercita sulla continenza volontaria ma anche nella dinamica del ponzamento quando al contrario ci deve ovviamente essere un rilassamento del puborettale dello sfintere anale esterno che consenta una da una parte una tenuta per consentire il passaggio delle feci e dall'altra ovviamente un allargamento del passaggio stesso per quello che riguarda diciamo la terminologia della sintomatologia possiamo avere diversi sinonimi parliamo di coccigodinia possiamo parlare anche di dolore al coccige possiamo parlare anche di dolore della parte terminale quasi della coda e possono esserci ovviamente diverse situazioni che possono provocare una coccigodinia dalle fratture ad esempio vedete come in questo caso abbiamo due immagini radiografiche a sinistra di una situazione in A di una situazione di una guarigione non direi completata della 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 frattura quindi con un'angolatura e nello stesso tempo a destra addirittura un quadro di pseudoartrosi del coccige sempre in esito di frattura ci possono essere delle dislocazioni quasi sempre di natura traumatica del coccige ci possono essere delle situazioni di instabilità dinamica con un coccige che è ipermobile fino a dei quadri di lussazione posteriore vi ricordo nel riquadro in basso a destra quelli che normalmente sono i pochi gradi fisiologici di differenza fra il coccige in posizione retta e in posizione seduta possono esserci degli speroni sempre ossei coccige quasi sempre secondaria problematiche traumatiche e possono esserci come abbiamo già visto queste situazioni di abnorme anteposizione direi del coccige che quasi sempre però non sono di origine traumatica ma sono associati funzionalmente ad un non relaxing pelvic floor in concomitanza con un dolore pelvico cronico in presenza di diversi generatori di dolore quindi questa è una situazione che va al di là della patologia specifica del se vogliamo del del coccige che interessa invece ovviamente situazioni anche di tipo viscerale ovviamente ci possono essere delle situazioni neoplastiche in questa immagine è descritto l'exenesi di un cordoma ci possono essere dei quadri osteomielitici quasi sempre secondari ovviamente a lesioni da decubito sacrali e ci possono essere situazioni più direi irrituali inconsuete come le cisti pinolidali che sono raccolte liquide spesso contenente peli usualmente al di sopra della piega interglutea che possono ovviamente infettarsi e dare una sintomatologia dolorosa la sintomatologia può esserci un dolore da seduto un dolore durante il passaggio da seduto in piedi ma possono anche presentarsi dolori durante l'evacuazione durante i rapporti sessuali la valutazione prevede un'ispezione una palpazione del coccige stesso e dei tessuti circostanti di fondamentale importanza e la valutazione ad esempio della sacroiliaca per escludere una patologia concomitante delle del racchide attraverso la palpazione delle faccette posteriori oppure di aree come ad esempio quella trocanterica dove bisogna escludere ovviamente la presenza di una borsite trocanterica o di una radicolopatia lombo-sacrale abbiamo visto come abbiamo già visto il filmato del dolore che compare in caso di un non-relaxing pelvic floor lo abbiamo già fatto passare questo filmato vedete la tensione e l'area diciamo la linea di forza che si viene a creare verso la sinfisi pubblica con un'antiposizione del coccige stesso ovviamente sul movimento consentito della sacrococcigea e lo si può anche vedere in questa animazione che è della dottoressa De Gasquet che vedete come attraverso anche i rapporti di nutazione contro nutazione del sacro e attraverso la muscolatura trasversa del perineo possano verificarsi situazioni di movimento del 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 coccige in caso di non-relaxing pelvic floor che trascinano poi ovviamente oltre al coccige anche il sacro fino ad ottenere spesso in caso di dolore pelvico cronico questa postura in flat back con tutte le dovute conseguenze ovviamente dal punto di vista riabilitativo la valutazione e poi anche la valutazione specifica del coccige per via endocavitaria per via rettale attraverso anche la valutazione dello sfintere anale esterno e del muscolo puborettale come si vede nelle immagini e poi le manovre ovviamente spesso bidigitali dell'apice coccigeo con l'attenta valutazione dei legamenti sacrospinosi e del muscolo coccigeo con la ricerca anche e la valutazione di un eventuale dolore da compressione sulla spina ischiatica e del legamento sacro tuberoso ovviamente tutte queste manovre possono essere di fondamentale importanza per la diagnosi differenziale e poi ovviamente per l'impostazione del 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 trattamento ritorniamo questa immagine qui per introdurre ovviamente l'importanza della valutazione palpatoria dei trigger per via endocavitaria riprendendo questa immagine del protocollo di Stanford quindi con la possibilità di andare a ricercare in questo caso la presenza di trigger point sui diversi muscoli che in qualche modo possono interessarci in particolare il coccigeo l'otturatore interno e l'ilio coccigeo dal momento che molte situazioni dolorose determinano la presenza di trigger point anche in muscoli apparentemente non coinvolti e non sempre soltanto a carico di muscoli ma anche a carico di aree mucose così come è descritto già da travel e simmons quindi trigger point possono anche essere presenti in aree mucose vedete comunque in questo caso come il coccige sia indicato come uno dei punti ovviamente di insorgenza in particolare di dolore in concomitanza con diverse patologie viscerali qui ancora descritta la vecchia prostatite cronica con trigger point esterni ma anche con trigger point interni anche in questo caso vedete la presenza di un trigger indicato sul coccige ma anche l'importanza di una diagnosi differenziale con problematiche ovviamente di natura anorettale come la proctalgia cronica utilizzando i criteri di Roma 4 dove vengono individuate ad esempio alcune caratteristiche della sindrome dell'elevatore dell'ano ad esempio dolore cronico ricorrente episodico per almeno 30 minuti o più evocato da manovre di trazione sul pubo rettale e dove vengono invece indicate caratteristiche della proctalgia fugax caratterizzata anche in questo caso da episodi di dolore ricorrenti non correlati alla defecazione della durata di pochi secondi fino a qualche minuto mai della durata come nel caso della sindrome elevatore dell'ano di 30 minuti e oltre e senza un dolore inter episodico questo serve ovviamente per la diagnosi differenziale fino ancora nuovamente a situazioni più inconsuete come la presenza di una cisti di Tarlov che ci porta alla necessità di un gradiente differenziale con problematiche di tipo mieloradicolare in questo contributo si vede come al di là della coccigodinia nella cisti di Tarlov siano significativamente più frequenti i dolori ad esempio al piede o bilateralmente al piede il dolore anale ma anche le problematiche di incontinenza fecale o ad esempio i disturbi nella fase iniziale della minzione quindi con una esitazione alla minzione dal punto di vista terminologico ci supporta l'ICS che in questo report descrive in modo dettagliato i diversi quadri clinici sottolineando come esista una differenza e una non associazione tra la coccigodinia e il dolore anorettale e ancora negli standard terminologici di recente pubblicazione per l'ICS come il dolore al coccige sia inserito nel dominio di tipo muscolo scheletrico il trattamento ovviamente come per tutte le situazioni di dolore pelvico cronico dovessimo in qualche modo fare strettamente riferimento all'EBM potremmo terminare qui la relazione sappiamo che tra tutti i trattamenti non farmacologici nel dolore pelvico cronico nelle sindrome di dolore pelvico cronico non esista ad oggi una come dire una maggiore efficacia dimostrato per una tipologia di trattamento rispetto ad un altro ovviamente i riferimenti per quello che riguarda la farmacoterapia rimangono quelli per il trattamento del dolore neuropatico e segnalo questa bella revisione del professor Fornasari recente siamo nel 2017 mentre partendo diciamo dal polo opposto rispetto all'approccio riabilitativo questa revisione del 2018 rivela ancora una potenziale efficacia laddove i trattamenti conservativi non siano stati utili ovviamente della coccigectomia anche se sappiamo abbiamo visto quali possono essere se vogliamo le conseguenze dal punto di vista funzionale visti i rapporti stretti che questo piccolo tratto osseo possa avere con una serie di strutture muscolari in particolar modo e fasciali estremamente importanti per quello che riguarda la funzionalità pelvica per tornare a trattamenti meno aggressivi segnalo la come dire l'efficacia dell'infiltrazione del ganglio impari l'abbiamo già citato il ganglio impari o ganglio anche del walter si chiama il nodo più basso della catena parasimpatica la tecnica di blocco del ganglio impari si è dimostrata efficace nel controllo della coccigodinia ma anche in caso di vulvodinia così come le proposte di trattamento attraverso la stimolazione dei gangli delle radici posteriori tecnica descritta da questo contributo su neuromodulation nel 2018 ed ancora il trattamento della coccigodinia con la termocoagulazione con radiofrequenza procedura mini invasiva che diminuisce rischi collaterali efficace nei pazienti resistenti ad altri trattamenti conservativi in particolar modo per i pazienti che hanno un'instabilità sacrococigea ed una ipermobilità della sacrococigea stessa ancora questo recente lavoro sull'efficacia delle onde d'urto e per tornare al trattamento più consueto dal punto di vista riabilitativo da ricordare la TENS in generale per il trattamento del dolore pelvico cronico che in caso di coccigodinia deve essere somministrata attraverso l'uso di sonde che consentono comunque la somministrazione per via endocavitaria di correnti antalgiche sia a media alta frequenza con i presupposti del gate control sia a più bassa frequenza con i presupposti della risposta di tipo endorfinico in questo caso l'utilizzo delle correnti bifasiche rettangolari a componente nulla è di particolare importanza sono quelle descritte nella parte più alta ovviamente della diapositiva e l'importanza di utilizzo di basse frequenze uno o due hertz determinerebbe ovviamente l'alterna con la ricerca dell'effetto motorio determinerebbe la possibile alternanza della fase di contrazione e di rilassamento soprattutto in caso di non relaxing pelvic floor secondo la definizione dell'ICS spesso associata a con alla coccigodinia da segnalare poi più in generale l'utilizzo nel dolore pelvico cronico e l'efficacia dimostrata della stimolazione del nervo tibiale posteriore per via percutanea o transcutanea la via percutanea è quella che in questo momento vedete nel filmato e soprattutto anche se direi con una dimostrazione ancora non così direi sicura anzi particolarmente criticate queste manovre da alcuni autori le manovre che in letteratura sono state suggerite nel corso degli anni diversi e che possono essere rivolte prevalentemente secondo gli autori francesi Robert Meigne e il figlio Janiv sul sacro il primo caso per una vera e propria manipolazione della sacro coccigea quella di Robert Meigne nel secondo caso con un scopo di stiramento degli elevatori dell'ano mentre la manovra di Tiele è una manovra che non prevede una azione sulla sacro coccigea ma prevede una manovra di massaggio a stripping delle componenti ilio e dischio coccige sempre nel caso del non relaxing pelvic floor questo è un articolo che in qualche modo riprende i concetti del trattamento manuale che abbiamo descritto fino adesso a sinistra è descritta la mobilizzazione del coccige per con modalità bidigitale per via endocavitaria secondo Meigne nella diapositiva a destra e questa manovra associata un'altra manovra di mobilizzazione di Robert Meigne associata con una manovra endocavitaria bidigitale ed una manovra invece di azione sul sacro sul tratto lombosacrale con un allungamento dei muscoli degli elevatori dell'ano da segnalare anche la presunta efficacia nel caso di coccigodinia dello stretching del piriforme dell'iliopsoas e anche seppur direi aneddotica l'efficacia del taping o quantomeno l'efficacia descritta in questa revisione recente della letteratura ovviamente il taping al fine di ridurre l'anteposizione e flessione del coccige stesso da ultimo direi che comunque l'importanza del trattamento manuale è rivolta soprattutto a contrastare quelle situazioni di malposizionamento del coccige che si verificano nel non relaxing pelvic floor questo è un lavoro presentato da un'autrice unitamente alla caribò nel international nel meeting mondiale dell'ICS 2013 che poi è stato anche direi trasformato in un contributo in un articolo dove l'ipotesi si 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 va a verificare l'ipotesi di riduzione attraverso una contrazione massimale del pavimento pelvico che possa in qualche modo indurre una inibizione con un rilassamento dei muscoli stessi ovviamente l'idea è un'idea che riprende i concetti vecchi concetti del metodo degli anni 40 di Jacobson il contract relax e questa tipologia di questa metodica diciamo questa tecnica chiamiamola così è particolarmente direi sfruttata e suggerita in caso di dolore pelvico cronico e si rifà fondamentalmente ad una contrazione massimale che può essere ottenuta più facilmente a livello pelvico perineale in contrazione concentrica come vedete in una delle due parti dell'animazione in maniera ovviamente più complessa attraverso una contrazione isometrica in entrambi i casi alla contrazione massimale contro resistenza in caso ovviamente della concentrica si otterrebbe un rilassamento per effetto di di questa sorta di facilitazione meccanismo che peraltro viene usato anche in altri campi della riabilitazione da molto tempo vedete in questo caso l'articolo direi importante della Charman del 2006 attraverso ovviamente un'inibizione del muscolo grazie ad un'attivazione dei meccanocettori dei corpi tendine del golgi del muscolo stesso che attivati attraverso la contrazione massimale determinano attraverso degli interneuroni inibitori la riduzione del reclutamento del muscolo stesso e anche in questa animazione possiamo vedere quello che in realtà succede attraverso questo tipo di meccanismo all'interno del muscolo stesso di autoregolazione in pratica del muscolo stesso in caso quindi di cocigodinia le manovre di stiramento e la ricerca della contrazione massimale inconcentrica eccentrica possono rappresentare un elemento irrinunciabile del percorso riabilitativo e con questo vi ringrazio per l'attenzione si 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 si